Musica Ciao a tutti ragazzi qui Enriquez ed oggi eccoci in questo primo episodio di GTA 3 Questo gioco c'è in giro da tantissimo tuttavia è uscito da poco la remaster quindi mi ha dato l'occasione perfetta per portarvelo Quest'oggi noi andremo a giocare l'originale Sì quello senza aiuti quello che ti fa soffrire e non vedo l'ora di iniziare Ho giusto giocato appena il gioco e per quel poco che ho fatto è stato davvero davvero odioso Che tra l'altro penso che questo sia il primo GTA in 3D Vi ricordo di mettere mi piace se la serie vi interessa e volete che la continui e direi che possiamo iniziare Ok iniziamo Ci troviamo qua da questa banca Attenzione Sono pronti con la macchina E sono nel mezzo di una rapina Come corrono No No Aia E niente Da quanto pa' siamo sopravvissuti E Ok siamo stati feriti E ci troviamo in questo Furgone della polizia Ah questo GTA è ambientato a Liberty City Come il 4 Aspetta no no Stiamo parlando di un attacco al ponte ma non è ancora avvenuto Quindi Quindi a quanto pare Accedrà adesso Ok uno si è andato a schiantare E va bene Tiri dietro come se non fosse nulla Semplicemente schiantato di peso contro il muro Ok ci stanno Ci stanno salvando Ah si vogliono salvare quel tipo Sono messicani Ah ok va bene Via il poliziotto E noi Ce ne approfittiamo Aia Proprio Un colpo dietro l'altro Prima ci sparano E ci tradiscono Poi dopo Veniamo liberati E ci becchiamo una bomba Ma a quanto pare Siamo ancora Vivi? Se no il gioco sarebbe finito Titoli di coda Ok Ah va bene Ok Devo guidare io Ed eccoci su GTA 3 per la prima volta Innanzitutto non puoi Cambiare la visuale Come in GTA 5 Poi Se vuoi girarti Puoi farlo solo in prima persona Così Abbastanza particolare Vediamo un po' Entriamo sulla macchina Con quello che è sul pay triangolo Tasto X per accelerare E quadrato per decelerare Quindi qua no Non si usano L2R2 Ma I due tasti Del controller E vai Iniziamo questa fantastica avventura Penso che bisogna andare di qua E infatti Eccoci qua Ah ok Comunque io non so ancora Il nome del personaggio Per noi sarà Gino Allora qua abbiamo Il garage Luigi Luigi Ma ti pa La mia macchina Sta già per esplodere Guarda Il fumo Le ragazze di Luigi Prima missione Attenzione Vediamo chi esce Aspetta no no Lo interpreto io Ciao Tutto bene Luigi Pizza pasta Mandolino Spennacci Today You need to take Some pizza For me Ok va bene Dobbiamo andare a prendere La pizza Per Luigi Trova un veicolo Va bene Ok L'auto esplosa Fa il caso nostro Attenzione Adesso Dobbiamo andare a prendere Tirato sotto Due persone Non è successo niente Ok E questa è la tipa Salve signora Fermiamoci qua A questo bel posto Fine Missione completata Wow Missione difficilissima Ragazzi Va bene Penso che a questo punto Si può anche concludere il video Io direi Vi ricordo di lasciare like Di commentare Di iscriversi E ci vediamo alla prossima Ciao Niente spank Per le ragazze Toc toc Ah ok Vediamo Scemo chi legge Ah ok Capito Con quanta intensità È stato detto Questo discorso E va bene Dobbiamo andare a Picchiare a morte Questa persona Allora Io quest'auto Quasi quasi la lascio Grand Theft Auto Se Non posso rubare un'auto Mi sa che non prenderemo L'auto della polizia O come proprio Quel Presentimento Salve poliziotti Questa è la mia auto Ovviamente Niente di Male In questo Porto Mi sta proprio Picchiando subito Così di peso Via Morto È stato difficilissimo Dobbiamo andare a far Riverniciare l'auto E Parcheggio Ok Costo Costo Mille dollari Eh Ah per questa volta È gratis Caratteria Verniciata Bene Ah ok Ah direttamente Il garage Sono riuscito A consegnarla Una portiera Distrutta Il motore Che fuma Ma Fa lo stesso Vero Quattromila dollari Forse è così facile A fare soldi Beccati sto pugno Corri 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 Uno si è lanciato Adosso la macchina Oddio signore Va bene La vita è anche bella Parcheggio Perfetto E adesso Tu non passi Vai andiamo Porta in giro Misty Per me Questo gioco Ha 70 missioni Spero che non Siano tutte così Ok Dobbiamo passare Per il territorio Di una gang Il nostro fantastico Gino Che possiamo vedere In faccia In tutta la sua bellezza In tutti i suoi poligoni Guarda che bello Ah questo qua Ancora guaga Aspetta eh Adesso andrò a fare 27 incidenti E ci sarà la tipa In macchina Che sarà tipo Eccoci qua Il nostro Gino In tutta la sua bellezza Joey Ok Ok Altri mille dollari Ci ha dato tipo Siamo a 6500 dollari Siamo ricchi Questo mondo cos'è Facciamo per questo Joey qua L'ultima cena di Mike Labbra Ok Fratelli Forelli Ora abbiamo 6 minuti La mia auto che sta per esplodere Vai prendiamo questa Salve polizia Tutto bene Ho tipo fatto Un salto incredibile Ehi Questa cosa è lanciata Oddio Non si è Non si è alto più Morto Infarto No è viva È viva Non più Non è più vivo Vai presa l'auto Io mi ricordo che quando Avevo fatto questa missione Tanto tempo fa L'avevo tipo Riavviata 5-6 volte Perché C'era sempre Qualche problema Bene Allora Ovviamente Un'officina Con Hai rovinato il veicolo Fallo riparare Dai non dirmi che mi fa pagare Ah no Mi ha regalato Ok Allora Adesso Non devo farle Danneggiare Parcheggia la macchina Al posto giusto Ma è parcheggiata Al posto giusto Che infame Attiva la bomba Cerchio Corri Ok Oh comunque Hanno una lentezza Questi personaggi Tu stai Tipo 10 secondi Guarda questa persona Che scende Le scale Boom No vero Ho seriamente picchiato Un poliziotto Ma sono un folle No E da dove ho sbucato Eeeh Letteralmente Secondo la logica Di GTA 3 Se ti aprono La portiera È come se ti avessero beccato Il tono è vero Il sospetto E mi hanno Tolto Tutte Le armi Oddio ma Quindi Cosa vuole questo Cioè Fittimamente Gli ho fregato l'auto Ma Mi sta Vado Check Norris Ma A quanto pare Il clonaggio È possibile Parcheggio perfetto Salve signore Che pugno Che mi ha tirato Comunque Cosa In poche parole Mi sta dicendo Vai a sparare Una persona Nel mezzo Di un territorio Di una gang Fantastico Fantastico Grazie gioco E adesso inizia La difficoltà Mi sa Che andarci Senza una pistola È un po' Una follia Ma direi Appena appena No perché Semplicemente Ci sforano di brutto Oh se io sono Niente Tutti mi vogliono Morti E da dove Da dove Sono sbucate Aspetta Adesso si inizia a dirigere Fuori Facciamo una cosa Lo lasciamo uscire E poi dopo E poi dopo Noi lo becchiamo Vero Da quando Ha un'auto Ma è legale Questa cosa Ha un'auto Esploverà Questo qua Da eccolo Prendo Da eccolo Prendo Eccolo Eccolo L'abbiamo preso Primo tentativo Signori Eccoci qua Ah mi è pronta L'azione Toc toc Nian chi esce Lui in persona Spero di non Dover andare A Butare giù Quello su Quella macchina Oddio Cosa posso fare Eccolo Eccolo No Ah 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 Ero vivo Prendi una macchina Ricercato Ma non è semplice Perché questi qua Hanno dei pompa E una pistola Non è bilanciato Ma non si può Non è possibile Non è umanamente possibile Fare questa mission Sper Ah ho capito Sì Effettivamente A te non serve proprio La pistola Cioè E' una perdita di tempo Quello che a te serve E' di investirli Eccolo qua Bam No c'è traffico Uno morto Vai che prendo l'altra No Oh L'esplosa L'auto GTA 3 E' un gioco Che non dovete giocare Perché appena la difficoltà Si alza Appena appena Ma quando dico appena appena Intendo appena appena Tipo Becca due persone su un'auto Di il gioco diventa impossibile A questo punto noi ci scantiamo di peso Fuggi 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 Oh Esplosa l'auto Ma il tipo è ancora vivo Fuggi Fuggi Oh E mi spara anche l'altro Ma mi spara il tipo di Matrix E' lui Ma niente La riprende Sii 4000 dollari Posso per le spese mediche Festa degli Ok No L'ho schippato E niente Premere il testo X Ormai ci sono abituato Per schippare i dialoghi Perciò No Comunque Devo prendere della gente E portarla Dai Dai poliziotti Ehm Delle belle Tipo Tipo Non tirarle sotto Come appena fatto Si Facciamo una cosa Visto che A noi piace Rivedere i dialoghi Facciamo che E' bello Fare i Giri in mare No Ah questa volta Non c'è il nostro Luigi E' bello Proteggere la città Io comunque Senza nemmeno Farlo a posto L'auto giusta Proprio il taxi Perfetto Che tra poco Mi esplode Guarda E' già nero Perfetto Niente Questo qua Non si sposta Ed è una missionata Cosa ho appena creato Ma sono Illuminati Posso fare Tipo Meglio Fuggire Evviva Ok Tu fai finto Di non aver visto niente Sempre stata questa La macchina Si però Una missione a tempo Non puoi camminarmi Così Bene Ma tra tutte le auto Devo andare a sbagliare Contro quelle della polizia Sei seri Beh se le dico Che sto portando a loro Non mi dirà mica niente No Si sono il tipo Che fin da poco tempo Fai è stato ricercato No no Tenete Eh infatti adesso Il livello di sospetto Si è zerato Se magari C'è gente Che si lancia a caso Appena fai Una manovra Un po' più particolare 40 secondi Uh Dovrei farcela Bene In che modo Le ho Lasciate Bene A questo punto Ne abbiamo 6 Mentre anch'io Dai Dove sono Finito Eh Eh Adesso ci sono Adesso non ci sono E adesso ci sono E adesso non ci sono E adesso ci sono E adesso non ci sono più 3000 dollari E siamo arrivati I nostri primi A 30.000 All'altro Ecco c'è la nostra Fantastica casa Qua abbiamo Qua abbiamo Una cosa che dovrebbe Simulare una scala Ma non lo è Perché le scale Sono fatte di troppi poligoni Perciò Ecco Questa fantastica salita Che nella vita reale Se ci provi Fai in scivolata Incredibile E no Che non porta nemmeno Nessuna parte Quindi ho messo così Sto per Qua abbiamo un'auto No San pover E Questa è la nostra casa Attenzione Una lavatrice Si può vedere In lontananza Bene Andiamo Quindi ragazzi Io penso di concludere L'episodio qua Vi ricordo di lasciare like Di commentare E di iscrivervi E ci vediamo alla prossima Ciao Ciao